bella raga salve a tutti ragazzi bentornati sul mio canale youtube ottimo devo dire ottimo ecco ragazzi scusatemi un attimo per l'imprevisto scusatemi inoltre per questo outfit pigiamino stile bambino però capitemi un attimo che è tardi devo andare a letto come buon youtuber devo riposare per produrre per avere un po' di creatività produrre contenuti e tantissime cose e quindi sono vi chiedo scusa tenetevi mi raccomando sempre aggiornati sul canale perché vedrete dei bellissimi video vi faccio vedere un piccolo spoiler infatti ragazzi vedrete presto un video a riguardo diciamo su questo tema ecco vedrete un video a tema detto ciò non vi dico nient'altro vi dico che a breve torneranno i video interviste che sono vi sono piaciuti e quindi cercherò di portarne il più possibile detto ciò non vi rubo altro tempo fatemi sapere se vi piace la compilation godetevela e fatemi sapere inoltre se volete che io continui a fare video su tiktok perché per chi non lo sapesse io faccio anche video su tiktok sono anche un tiktoker da buon youtuber professionista e noi ci vediamo presto con un nuovo e bellissimo video ciao ragazzi fammi vedere quanto ho preso beh cinque buono poteva andare molto peggio non mi lamento ciao mi chiamo luis faccio lo youtuber mi piacciono le donne solo se sono maestra no 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 scusa 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 per chiunque abbia un animale domestico avvicinatevi all'animale come se voleste accarezzarlo ma fermatevi poco prima guardate la sua reazione ora togliti dalla lavandina i principali organi dell'apparato riproduttivo maschile sono pene prostata e testicoli quelli dell'apparato femminile invece sono utero e vagina cosa c'è da ridere vai fuori mi scusi prof mi scusi Emily Emily non c'è più Emily non c'è più quindi